Musica Sono stato chiamato da Fulvio, il quale con voce affannata per telefono Mi ha detto, Cristia corri, corri al pronto soccorso Ho appena rianimato mio zio che è andato in arresto cardiaco E' molto importante per il soccorritore dopo aver avvertito il 118 Controllare se l'infortunato respira e abbattito cardiaco Aggiungendo le nozioni di primo soccorso e medico legale nel corso di PPSP Le nozioni di primo soccorso e medico legale nel corso di PPSP E le nozioni medico legale di estricazione e mobilizzazione nel corso di PPC Ha portato un vantaggio a chi ha un fluido del corso statisticamente Ciao! 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 Ciao!